La signorina ha mangiato? Eh? La principessa? Tutto seduta, qui mangiamo seduti adesso, non? Non saltiamo più noi, non c'è più niente, mai è finito. Salute! Ehi, è arruttato la signora, eh? Principessa proprio, eh? Brava! Ehi, oh, questo è basta, ma guarda questo, che buttava la ciotola, eh? Ci dà fastidio la ciotola sul lettino, eh? Ma guarda questo, servite di carita. Grazie. Grazie.